18 settembre, Singapore. La signora Zhang li si para davanti agli occhi. Arriva l'ordine. Io e mia figlia vogliamo altri granchi per cena. I tatuaggi pulsano. Wang teme di impazzire. Trova il coraggio per risponderle. No, costano troppo. Una smorfia di schifo trasfigura il viso della signora Zhang. Li dice che è un poveraccio. Wang incassa. Prova vergogna. La vergogna di non poter pagare una cena di lusso alla donna che ama. La vergogna di sentirselo rimproverare. I tatuaggi dell'amore che porto sulla schiena bruciano. Fa caldissimo il 18 settembre. I tatuaggi dell'amore che porto sulla schiena bruciano. Fa caldissimo il 19 settembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.